Ciao ragazzi! Allora, sei pronta per il viaggio? Beh, sì. Ancora non ho capito se ho messo troppe cose in valigia o troppo poche. So già che quando sarò partita avrà quell'orribile sensazione di aver dimenticato qualcosa di importantissimo. Emma? Che c'è? Niente. No, è che devo... devo dirci una cosa veramente importantissima, Nicole. Cosa? Ciao, Rebecca! Per Nicole, i pip! Urrà! I pip! Urrà! I pip! Urrà! 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 Grazie ragazzi, voi siete veramente matti. Non so cosa dire. Ma come? È proprio il momento del discorso. Discorso! Discorso! No, dai, sono davvero un disastro per le parole. Dai, dai, niente scuse. Cosa fate? No, dai! Allora, innanzitutto grazie per questa bellissima sorpresa. Come sapete non mi piace stare al centro dell'attenzione. E infatti oggi non mi parlerò di me, ma di voi, i miei amici. Sono davvero contenta di partire per questa avventura. Ma in questi anni ho imparato una cosa. Non importa quanto lontano vai o quanto in altro vuoi salire. Le avventure più belle sono quelle che si vivono con i propri amici. Sei felice? Certo. Non sono con voi, sono sempre felice. Grazie per... Tutto questo. Scusami, Nicole. Davvero mi dispiace, ma... Devo scappare. Sara mi sta aspettando per un servizio fotografico e... Questa volta non posso proprio fare tardi. Certo, vai. Grazie di tutto, Alex. Quando tornerai, io sarò qui ad aspettarti. Lo so. Sempre qui ad aspettare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.